Ciao a tutti, io sono Annalisa Morganti, dottoressa in Psicologia Sociale del Lavoro e delle Organizzazioni. Da poco ho concluso il mio percorso con Alma Laboris in Gestione, Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane. Ho deciso di intraprendere il percorso con Alma Laboris subito dopo la mia laurea conseguita nell'ottobre 2020, proprio spinta dalla volontà di volermi affacciare al mondo del lavoro e colmare anche quella che era la parte amministrativa del mondo HR, che lungo il mio percorso umanistico non avevo affrontato. Scelgo Alma Laboris anche e soprattutto per il loro taglio executive pratico, che durante le giornate di formazione mi hanno permesso di poter affiancare a quelle che erano le nozioni teoriche anche una parte pratica che mi permettesse di poter mettermi in gioco su tutte quelle che erano le sfaccettature del mondo HR. Chiave di volta del mio percorso però è stato soprattutto l'affiancamento e il sostegno del placement del master, il quale mi ha permesso di entrare a contatto con una realtà del territorio, poter effettuare un colloquio ed essere inserita lungo un percorso di stage. Ad oggi infatti mi trovo all'interno, a metà del mio percorso stage in un'agenzia per il lavoro e spero che questo sia soltanto l'inizio della mia carriera lavorativa nel mondo delle risorse umane. Grazie per la visione!